Ciao a tutti, sono Cristian Rigano, siamo sul palco di Lorenzo Neppala Sport 2015-2016. Volevo farvi vedere il mio sistema Audio Station che ho qui sul palco. È molto intuitivo, è facile da usare e allo stesso tempo molto potente. Mi permette di utilizzare tutti i plug-in virtual instrument che abbiamo usato in studio per la registrazione dell'album. Un'altra bella cosa è che non ho bisogno di plug-in dedicati, ma ci posso installare tutti i plug-in che installo normalmente nel mio computer. Creare splits o layer di cui ho bisogno è veramente semplice. Per comodità e per questioni estetiche io ci collego un monitor, ma si può fare ugualmente tutto dal suo telecomando. Lo consiglio a tutti quelli che vogliono portare sul palco un sistema affidabile e potente per suonare i VST.